...servizio. Proposta concreta, risorse in campo. Il presidente della regione Capellacci insiste sul confronto e lancia un chiaro messaggio al Movimento dei Pastori che per mercoledì ha annunciato una nuova manifestazione a Cagliari. Mettiamoci a lavorare insieme, evitiamo azioni e manifestazioni che non aggiungono niente, che creano problemi a tutti e che non ci portano verso il risultato. Capellacci dice la trattativa deve andare avanti perché il piano della regione è davvero straordinario. 130 milioni di risorse in tre anni più interventi dal programma di sviluppo rurale che non hanno uguali in Italia. Su due misure, che sono due misure importanti per quel mondo sono quelle del benessere degli animali e l'indenità compensativa riserva 430 milioni su 1.200 in totale del PSR. Pensate che la Sicilia su un PSR di 2.300 milioni riserva all'indenità compensativa 50 milioni. Quindi questo dà l'idea anche dell'ammontare delle risorse che stiamo mettendo in campo. La proposta dunque è sull'emergenza ma anche sulla prospettiva subito 2.500 euro l'anno per ogni azienda fino al 2012 e gli interventi per liberare il mercato dalle eccedenze di pecorino. Per far questo noi abbiamo dedicato 10 milioni di euro subito quest'anno e 10 milioni di euro vorremmo dedicare l'anno prossimo. Inoltre abbiamo ottenuto dal Ministero sul bando a generi indigenti 14 milioni di euro, altri 6 milioni di euro li mettiamo noi sul bando degli esteri sempre per gli indigenti. Non solo meno formaggio nei magazzini ma anche meno latte nel sistema. La Regione prevede il ritiro fino a 20.000 litri dal singolo produttore per destinarli alla trasformazione in polvere. Poi è previsto il sostegno alle nuove produzioni. Per facilitare l'accesso al credito viene istituito un fondo di garanzia di 5 milioni capace di liberare risorse effettive per almeno 45. Questi i punti principali della proposta. Andare verso quelle ipotesi che si era fatta di un de minimis di 15 mila euro ad azienda che è totalmente impercorribile perché anche volendo non ci sono le risorse sarebbe comunque una scelta assurda. Io credo che sia importante invece e non mi stancherò mai di dirlo mettere i nostri pastori nella condizione di poter costruire il loro futuro quello dei loro figli con fierezza, con orgoglio ma con le proprie mani e con l'aiuto naturalmente dell'istituzione. Insomma un obiettivo condiviso che coinvolge direttamente il territorio. Mi sento di fare un appello a tutti, anche ai sindaci, agli amministratori di enti locali perché si eviti questo tipo di manifestazione, perché si incoraggino tutti e facciano anche loro un'opera di convincimento per incoraggiare tutti a sedersi al tavolo a lavorare. Questa è la via d'uscita.